Cioè a ieri già la premiazione si acchiappava complimenti a Sandra, Raimondo e poi c'è la di cagamunna a basilico Bisogna congelarlo per l'inverno, no? Certo, congelarlo per l'inverno E avete sempre il basilico fresco Mi sono accattato i rasti Certo Andate a annaffiare, a sicco, no? Guardate ragazzi, lui passa dal jet set Ma si Dalla vita mondana Al jet 8 Al jet 7 e al jet 8 Ma Vicky Lauci, Raimondo Vianelli e Sandra Mondaini non avvicinavano Non penso che ammunnavano un basilico Io per ora non mi posso permetterli a famiglia Ai filippini Li prendiamo una famiglia di filippini Ci lo mettiamo qua Vabbè ma ammeri come filippina Tutta è proprio filippina marocchina Comunque vorrei capire una cosa Perché nella coppia Sandra Raimondo C'era lui che faceva il marpione con tutte quelle ragazze Che gli passavano a casa Che non puoi essere tu E lei Sandra che brontolava Però scopreva sempre Raimondo Dove ammazzava le coppa Ah tu brontoli Quindi Tra noi chi è che fa il marpione Tu brontoli Tu brontoli E allora tu fai un marpione Certo Certo un marpione Un marpeo Un mattento Saluta va saluta Ah Comunque ragazzi noi ancora i filippini non ce l'abbiamo No no Filippini Ci ha detto che siamo i nuovi Sandra Raimondo del 3000 E perciò non 3000 mi ricchi un filippino Saluta va saluta Ciao ragazzi Sì Il filippino io lo faccio Il filippino Il giapponese Sì L'americano Il basilicano No della basilica Basilicano da basilico Sì